Ciao a tutti quanti, oggi parliamo finalmente del vaccino russo, sono settimane che mi chiedete di parlarne. Noto un grandissimo entusiasmo nei commenti su YouTube, continuate a dirmi di parlare di questo vaccino e effettivamente questo entusiasmo sembra anche condiviso anche a vari livelli se notate. Banalmente nel nostro paese tutti sono molto entusiasti del fatto che pare alcune aziende italiane facciano degli accordi con alcune aziende russe per produrre una parte dei vaccini russi da noi. Ci sono delle questioni quindi scientifiche che vedremo e poi ci sono delle questioni politiche. Sulle questioni politiche necessariamente qualche accenno posso darlo ma a me interessa la parte scientifica, a me interessa sapere se questo vaccino funziona, è buono, che caratteristiche ha. Faccio una premessa importante, adesso parlerò di questo vaccino, ne evidenzerò gli aspetti positivi, alcune criticità ma nonostante tutto probabilmente se domani lei me lo approvasse il giorno dopo se mi venisse dato a disposizione io il vaccino lo farei. Non è nella mia eventuale classifica, cioè nella classifica degli eventuali vaccini il mio vaccino preferito, probabilmente sta in fondo alla classifica, ma comunque lo farei. Ve lo dico, questo perché non voglio in nessun modo disincentivare, far credere che questo vaccino sia particolarmente sfortunato o particolarmente fortunato, come vedremo ha delle caratteristiche che lo rendono interessante. D'altro canto però in questo momento qualsiasi vaccino di quelli che sono a disposizione e di quelli che sono attualmente validati sono meglio probabilmente del non prenderlo e rischiare di contagiarsi col virus e avere poi tutte le problematiche che può dare il virus. Non solo quelle gravi che conosciamo come andare in ospedale e eventualmente anche morire, ma quelle di cui abbiamo anche già parlato in altri video, come avere long covid, come stare settimane, mesi e mesi con i sintomi che ti debilitano per mesi, cosa che sapete io preferirei evitare. Quindi benvenga a qualsiasi vaccino che venga dimostrato efficace e sicuro. Partiamo dal nome che è interessante, Sputnik V. V, mi raccomando non quinto perché V sta per vaccino. Sputnik invece ovviamente sta per Sputnik 1, il primo satellite mandato dall'Unione Sovietica nello spazio e fa ovviamente riferimento alla corsa allo spazio perché effettivamente l'anno scorso la corsa ai vaccini nei vari paesi del mondo assomigliava, se ci pensate, tantissimo alla corsa allo spazio in un certo modo, una grande impresa tecnologica, in questo caso biotecnologica, che fanno tanti paesi nel mondo più o meno cooperando e che devono arrivare a un obiettivo comune. Molto interessante, un parallelismo calzante. Vediamo dal punto di vista biologico. È un vaccino speciale sì, per alcuni punti di vista, ad altri punti di vista no, nel senso che è un vaccino ad adenovirus. Sarebbe il terzo vaccino ad adenovirus che abbiamo. Abbiamo già quello prodotto da AstraZeneca, che conosciamo abbastanza bene, fra poco verrà provato quello prodotto da Johnson & Johnson e poi appunto Sputnik V. Sono vaccini ad adenovirus. Come funzionano? C'è un vettore virale, che è appunto un adenovirus, che può essere o uno o due adenovirus umani, oppure anche degli adenovirus di scimpanzé, al cui interno viene messa l'informazione genetica, il DNA, che serve a produrre un pezzo di proteina spike. Il vaccino viene iniettato e avviene ovviamente l'infezione, la parte di questi virus molto sfigati all'interno delle cellule del nostro corpo, viene inserita questa informazione genetica, che viene velocemente trascritta e poi tradotta in proteine spike ed ecco che il nostro sistema immunitario riesce ad attaccarlo. Ovviamente il virus non può diffondersi perché non ha l'informazione genetica per farlo. Le differenze tra i tre vaccini ad adenovirus sono soprattutto nel vettore virale. Che tipo di adenovirus fa da vettore nel portare il DNA all'interno delle cellule? Nel caso di Johnson & Johnson abbiamo un unico vettore che chiamiamo AD26. È il suo nome, tenetevi in mente perché poi c'è anche all'interno di Sputnik V. Lo saprete bene, un fatto fantastico del vaccino Johnson & Johnson è che basta una sola somministrazione. Non c'è il problema tecnico-logistico di distribuzione dei vaccini per cui bisogna dare una prima dose e poi aspettare settimane o mesi, dipende dai casi, per poi dare la seconda. Poi abbiamo il caso di AstraZeneca. Qui abbiamo un vettore virale, come sempre, sempre un adenovirus, come sempre, solo che non è un adenovirus umano, è un adenovirus degli scimpanze. A noi cambia relativamente poco perché noi gli scimpanze siamo ovviamente molto imparentati, abbiamo anche malattie in comune, ma poi all'atto pratico cambia abbastanza poco perché, ripeto, questi vettori sono come delle capsule vuote, non è che possono replicarsi poi, quindi che sia di scimpanze o che sia di umano cambia relativamente poco. Il vettore virale quindi si chiama non AD26 o AD un altro numero, ma CH che sta per CIMP, quindi lo scimpanzee AD, quindi CHAD. E sappiate che nello slang di internet CHAD significa un uomo magari giovane, magari in forma, magari molto sicuro di sé, tipo un uomo alfa, quindi ok. Bene, nel caso del vaccino di AstraZeneca abbiamo due dosi dello stesso vaccino identico, con lo stesso vettore virale. Quindi ecco che abbiamo la prima iniezione con il vaccino col CHAD e il secondo col vaccino col CHAD. E, ok. Il caso russo è un po' particolare, nel senso che il vaccino russo ha due iniezioni con due vettori virali diversi. Il DNA all'interno del vettore è identico, ma appunto abbiamo due vettori diversi. Ecco che prima ci viene fatta un'iniezione con l'adenovirus 26 e tre settimane dopo con l'adenovirus AD5, quindi prima AD26 e dopo AD5. Due adenovirus diversi. In teoria questa cosa è una cosa davvero molto buona dal punto di vista immunologico. Perché? Perché avere due vettori diversi permette un fatto interessante. Cioè che il sistema immunitario, la seconda volta, non rischi di attaccare anche il vettore con cattiveria. Pensateci un secondo nel caso del vaccino di AstraZeneca. Io faccio la prima dose, sto immettendo del materiale genetico e poi produrrà la proteina spike. E un vettore, il sistema immunitario li conosce probabilmente entrambi. Bene, la seconda volta magari risponde subito anche al vettore. E questa cosa magari non è ottimale. Bene, nel caso del vaccino russo questa cosa si dovrebbe risolvere. Nel senso che da una parte abbiamo iniezione con un vettore virale che viene riconosciuto, ma la seconda volta è un secondo, quindi deve essere riconosciuto una seconda volta. E intanto la proteina spike viene prodotta e quella sì che viene riconosciuta per la seconda volta di botto. Però nella teoria questa cosa è una figata. Nella pratica, all'atto pratico, questa somministrazione ha dei problemi tecnici non indifferenti. Pensateci un secondo. Non solo dobbiamo fare due dosi, che è una problematica logistica che conosciamo per i vaccini che abbiamo adesso, ma dobbiamo anche darli nell'ordine giusto. Quindi ecco che dobbiamo dare prima ad 26, poi tre settimane dopo ad 25. Come funziona la gestione, la logistica? E se si sbaglia, se si dà due volte uno, due volte l'altro? E se, come si consegnano? Si consegnano prima uno e poi due settimane dopo? Oppure si consegna tutto insieme e si tiene in frigo tre settimane la seconda dose? Bene, nei vaccini invece con le dosi uguali ovviamente è diverso. Io posso tranquillamente far arrivare un carico e dopo un secondo carico eventualmente appunto vaccinare. Sono tutte uguali e questa cosa è particolarmente comoda. Ed è sicuramente più scomoda, ma ordine di grandezza a questo punto, rispetto al vaccino di Johnson & Johnson che, ta, abbiamo la prima dose, basta, fatto. E poi abbiamo l'altro problema, quello produttivo. Se io produco 100 di AstraZeneca, ecco che ho 50 e 50, posso fare 50 somministrazioni a 50 persone diverse. Ma nel caso del vaccino russo, se io uno dei due vettori ne riesco a produrre meno, ho degli ovvi problemi perché quello che produce meno diventa il mio fattore limitante. Se io produco 30 e 50 dei due, ovviamente ho un grosso problema perché io al massimo posso fare 30 somministrazioni totalmente. E questo è un problema perché bisogna stare anche attenti a equilibrare bene le produzioni. E per esempio pare che sia un po' più difficile produrre ad 5 e ci sono dei problemi da questo punto di vista. E capite bene che questo è un problema. In quest'ottica probabilmente è nata la sperimentazione incrociata che sta avvenendo in fase 1, mi pare, tra il vaccino AstraZeneca e appunto il vaccino russo. Per cui ecco che la prima dose la diamo col vaccino di AstraZeneca e il secondo lo diamo con la prima dose del vaccino russo, quindi quello col vettore AD26. E forse questa cosa funziona e magari riesce a superire eventualmente se ci sono delle mancanze del vettore AD5. Quindi al di là di queste criticità nella produzione, questo vaccino funziona? È efficace? È sicuro? Partiamo dalle basi. Saprete benissimo che questo vaccino ha colpito il mondo perché è stato tra i primi ad essere approvato. Probabilmente facendo anche riferimento a quella corsa allo spazio di cui abbiamo parlato prima. È stato approvato ad agosto, ancora prima che venisse terminata, probabilmente verso quando si stava iniziando a fare la fase 3 di sperimentazione. Questa cosa è stata abbondantemente criticata. Tendenzialmente in occidente i vaccini non vengono approvati prima di aver finito o prima di aver dato i primi risultati forti della fase 3, mentre nel caso del vaccino russo abbiamo avuto un'approvazione preventiva. Tutto questo è stato abbondantemente criticato perché ovviamente è stata una scelta più che altro politica, più che altro d'immagine, più che scientifica. È stata una specie di grande parata per farsi vedere, un po' una buffonata da un punto di vista scientifico. E all'atto pratico poi questo è vero anche nei fatti. Nel senso che dopo l'approvazione in Russia, per mesi non sono stati somministrati i vaccini alla popolazione. Questo perché forse non abbiamo le dosi, oppure probabilmente perché intanto prima di iniziare a distribuirlo assicuriamoci di essere sicuri che sia sicuro ed efficace con i normali test che fanno tutti gli altri vaccini. Infatti in Russia praticamente fino a gennaio lo Sputnik V non l'ha ricevuto praticamente nessuno. Andate pure a vedere i grafici, i dati delle vaccinazioni in Russia. C'è anche un altro problema che per me è importantissimo del perché approvare prima di dimostrare che sia sicuro ed efficace è davvero molto molto fastidioso, molto molto problematico. E cioè se tu come realtà, magari come persona, come Putin o come rappresentante dello Stato russo approvi il vaccino prima di aver dimostrato che sia sicuro ed efficace e poi eventualmente scopri che è meno efficace di quello che ti aspetti, di quello che è stato dichiarato pubblicamente, magari non sei in uno Stato, sei in uno Stato un po' autoritario, non è che magari hai degli interessi diretti proprio di falsificare i dati, modificarli, migliorarli per far vedere di non aver fatto una figura del cavolo. Questo è un ovvio problema, motivo in più per cui l'approvazione prima della sperimentazione in fase 3 è una cosa molto problematica, soprattutto in uno Stato come la Russia. Motivo in più per ovviamente trassalire quando questa cosa è successa. Davvero immaginatevi di essere Putin che ha approvato il vaccino e è stato abbondantemente criticato e arrivano i suoi scienziati dicendogli ehi sai che abbiamo dichiarato che il nostro vaccino era X per cento? Bene, i nostri dati ci dicono meno. Cosa facciamo? Bene, voi siete davvero sicuri che l'esito sarebbe ah sì dai, diciamo che in realtà era meno efficace. Io no. E ora lasciatemi un attimo rispondere a delle frasi retoriche di una retorica stantia che sento ultimamente. Ah, gli scienziati, i ricercatori ad agosto se la prendevano con il vaccino russo e adesso invece che ce n'è bisogno ecco che invece dicono ah che bello, che buono che è questo vaccino facendo vedere che sono degli ipocriti. Questo discorso l'ho sentito più volte ed è davvero vi prego, è parziale, è una fallacia logica gigantesca. Perché non è, non è la linea logica è questa perché in mezzo è successa una cosa importante, una cosa necessaria per tutti i ricercatori del mondo. E cioè sono stati pubblicati i dati delle sperimentazioni in fase 3, almeno i primi dati che mostrano una buona, una certa sicurezza e una buona efficacia di questo vaccino. Ovvio che poi allora cambia, ma dopo la pubblicazione dei dati, come è successo per gli altri vaccini. Ve lo ricordate? Crisanti, Andrea Crisanti, super criticato quando ha detto ah prima di farmi il vaccino voglio vedere i dati. Poi i dati sono arrivati, gli sono piaciuti, si è fatto il vaccino, ok? E dopo ha detto perfetto, ci siamo. Bene, vale per gli altri vaccini, vale anche per il vaccino russo. Il discorso è esattamente lo stesso. Chi usa questa retorica così triste, boh, o è ignorante o è in malafede. E quindi ecco che il 2 febbraio vengono pubblicati su The Lancet, come per tutti gli altri vaccini, i dati. Quindi in realtà abbiamo dei dati parziali della sperimentazione in fase 3. Questa cosa dei dati parziali era già successa per altri vaccini, tipo AstraZeneca, per capirci, ok? E quindi, bene, ci siamo. Possiamo finalmente osservare e vedere che il vaccino è abbastanza sicuro e abbastanza efficace, come gli altri. Dal punto di vista della sicurezza si vanno a vedere i sintomi, delle risposte che si hanno quando si fa il vaccino e emergono sempre le solite cose. Dolore nella zona dell'iniezione, arrossamento, gonfiore, febbre, un po' di mal di testa, un po' di affaticamento, sempre questo emerge per tutti i vaccini. Le reazioni sono in linea appunto con gli altri vaccini e quindi direi che va tutto più che bene dal punto di vista della sicurezza. Non abbiamo casi gravi, non abbiamo problematiche gravi come nel caso degli altri vaccini. Per quanto riguarda l'efficacia, sembrava effettivamente che ci fossero delle belle sorprese. Il 92% delle persone che si erano vaccinate non sviluppavano nessun altro tipo di malattia, cosa buonissima, in linea perfino con i vaccini a mRNA, non con gli altri vaccini ad adenovirus, ma si montavano un'altra cosa. Chi era stato vaccinato con questo vaccino aveva dei titoli anticorpali, delle concentrazioni di anticorpo all'interno del proprio corpo molto molto alte, in linea con i vaccini a mRNA, molto al di sopra dei vaccini ad adenovirus. Tanta cosa in teoria. A questo punto, vari scienziati in giro per il mondo, alcuni anche italiani, iniziano a mostrare delle criticità all'interno di quell'articolo scientifico. Questa cosa ovviamente è un problema, lo capite bene. I russi, i ricercatori russi, danno alcune risposte e fanno delle correzioni all'articolo scientifico, per alcune cose non rispondono e ancora oggi non hanno ancora risposto ad alcune delle critiche, ad alcune delle problematiche evidenziate all'interno dello studio. Se volete approfondire questa cosa, vi lascio degli articoli di uno dei personaggi che ha contribuito a criticare quest'articolo, che è Enrico Butch, una persona che stimo molto, italiana, che ha scritto anche gli articoli sul tema. Ovviamente tutte queste criticità verranno appianate non appena l'azienda russa dovrà presentare tutti i dati all'EMA o all'FDA. Ma vedete, è bello, no? Che ci sia un interrogatorio che chiede tutti i dati a disposizione prima di approvare o no un vaccino, come è stato fatto per gli altri vaccini. La cosa interessante è che da gennaio in poi la Russia comunque inizia a distribuire i propri vaccini non tanto alla propria popolazione, infatti dopo lo vediamo, è abbastanza poca la percentuale di popolazione vaccinata in Russia con il vaccino russo, ma in altri paesi, quindi la Slovacchia, lo saprete San Marino, ma soprattutto l'Argentina. L'Argentina è stata uno dei primi paesi in cui sono arrivate una grande quantità di dosi. E qui emerge una grandissima criticità che sta emergendo in questi giorni. I dati, le analisi che vengono dall'Argentina sono diversi rispetto a quelli dei dati pubblicati sull'articolo di The Lancet. Il vaccino sembra un po' meno sicuro, nel senso che in media emergono più reazioni avverse, cosa che comunque rientra in parametri accettabili, e d'altro canto l'efficacia, almeno nel livello di risposta anticorpale, sembra molto più bassa rispetto a quella che c'è negli studi scientifici. si parla di 10 volte meno, totalmente in linea praticamente con gli altri vaccini ad adenovirus. E quindi ovviamente di nuovo nasce il sospetto che questo vaccino ad adenovirus sia praticamente uguale o simile a tutti gli altri vaccini ad adenovirus e che ci sia forse, boh, speriamo di no, oppure speriamo di sì, che si scopra, è quello l'importante, un qualche problema di trasparenza in questa corsa allo spazio. Per cui speriamo che le cose si sistemino, speriamo che ci sia un qualche errore da qualche parte e che non ci sia ma la fede, questa è la speranza più grossa che ho, però ecco, probabilmente nel momento in cui immaginiamo il vaccino russo immaginiamolo come uno degli altri vaccini a vettore virale con un vaccino AstraZeneca senza aspettarci che abbia chissà cosa in più, almeno questo è quello che ci arriva dalle evidenze sul campo. Per cui davvero tutto questo entusiasmo nei confronti del vaccino russo in particolare secondo me andrebbe un attimo ridimensionato, è un vaccino come gli altri con alcune criticità che gli altri vaccini invece non hanno in particolare nella produzione. E infatti la produzione in realtà di Sputnik V è abbastanza esigua se confrontata con altri vaccini come per esempio quello della Pfizer che viene prodotto in numeri molto maggiori. Banalmente pensato al fatto che in questo momento in Russia è stata vaccinata soltanto il 4,5% della popolazione nonostante loro abbiano un loro vaccino il che è interessante tenendo conto che per esempio in Italia abbiamo vaccinato in proporzione il doppio delle persone il 9% della popolazione vi prego non dite cose del tipo eh ma la Russia è molto più grande è più del doppio d'Italia a livello di abitanti perché allora allarghiamo un attimo guardiamo l'Unione Europea anche in Unione Europea in media abbiamo vaccinato in circa intorno al 9% 9% della popolazione e lì abbiamo tre volte più persone della Russia quindi sì anche la fallimentare Unione Europea che ha delle problematiche di approvvigionamento dei vaccini è messa di gran lungo meglio della Russia che ha il proprio vaccino per cui vi prego cambiamo anche un po' i livelli di percezione del fatto che ci arrivano pochi vaccini del fatto che la Russia ne ha tanti cerchiamo di mettere di quadrare bene i fatti in questi giorni c'è anche la questione politica interessante in realtà dell'idea che alcune aziende italiane potrebbero produrre il vaccino russo viene accolto con molto entusiasmo e anche qua i numeri non tornano si parla di 10 milioni di dosi entro la fine del 2021 di produzione poi quindi tutti utilizzati all'interno dell'Italia o anche distribuiti in altri paesi questo non si capisce ma 10 milioni di dosi sembra un numero enorme ma in realtà non è so che sembra enorme ma non è così grande se ne guardiamo la produzione della Pfizer di Moderna o di AstraZeneca sono numeri abbastanza piccoli banalmente sappiate che adesso pare i vari vaccini stiano andando a regime di distribuzione stanno arrivando secondo i patti da adesso in poi in queste settimane e probabilmente nei prossimi mesi i vaccini che arriveranno saranno 10 milioni al mese minimo probabilmente sommando i tre vaccini quindi pensare a 10 milioni entro la fine del 2021 è un po' particolare anche perché se tutto va bene stando ai piani nuovi di vaccinazione sperando che gli altri vaccini arrivino in buone quantità probabilmente già per la fine dell'estate dovremmo avere abbastanza vaccini poi averne abbastanza e riuscire a vaccinare abbastanza persone sono due cose diverse ci sono degli ovvi problemi di distribuzione di vaccinazione di personale di persone che vanno a vaccinarsi c'è un bel casino da gestire però ecco cerchiamo di non impazzire i numeri sono abbastanza facili da fare anche se sono grandi oltretutto pensate a tutto quello che vi ho detto ma perché un'azienda italiana dovrebbe produrre il vaccino russo e non quello di Johnson & Johnson e non quello di AstraZeneca e non quello di BioNTech c'è un motivo particolare per cui il vaccino russo è migliore io ci vedo solo delle criticità dal punto di vista tecnologico dobbiamo avere il doppio dei reattori per fare il doppio dei vettori è un bel casino perché non abbiamo fatto gli accordi con Johnson & Johnson che bisogna produrre una singola dose di vaccino mi sembra molto meglio oppure ancora perché non abbiamo fatto come Sanofi Sanofi azienda per lo più francese multinazionale francese che ha fatto gli accordi con la Pfizer per produrre il vaccino mRNA perché abbiamo così tanto entusiasmo nei confronti di quello russo io davvero questa cosa non me la spiego e qui capite bene c'è un ovvio problema anche politico anche geopolitico anche di politica internazionale ma non è il mio campo fate queste domande a chi se ne occupa fate domande ai politici che si stanno occupando di questa questione questo video è probabilmente venuto lunghissimo mi rendo conto di aver ucciso un po' la magia che c'era intorno a questo vaccino ma è necessario è probabilmente un vaccino come gli altri e che deve seguire le regole degli altri e che deve essere trasparente come gli altri speriamo e quindi dai dai speriamo di avere un buon vaccino in più fra qualche settimana dopo che sarà approvato e dopo che l'EMA avrà dimostrato che tutte quelle criticità che sono emerse in realtà sono in qualche modo superabili quindi ecco questo è tutto quello che volevo dirvi ragazzi lo so il canale ha raggiunto i 100.000 iscritti magari settimana prossima faccio un video apposito per festeggiare questo grande obiettivo vi ringrazio davvero tantissimo ringrazio tutti voi davvero con tutto il cuore di esservi iscritti di seguire questo canale di guardare questi video davvero grazie tantissimo poi ne parliamo meglio lunedì con questo vi saluto e noi ovviamente ci vediamo al prossimo video ciao ciao